bella ragazzi ragazzi questa volta facciamo un video semplice ma utile per molte persone in questo caso daremo semplicemente del silicone per unire ermeticamente due lamiere queste due lamiere sono saldate ad angolo le abbiamo abbiamo dato due punti nel retro per metterle assieme e ora daremo una riga di silicone in quell'angolo possono essere lamiere possono essere vetri o altri materiali l'importante l'importante che la cosa che vogliamo fare fare una riga di silicone che sia omogenea che sia uniforme che non sia troppo sbavata dai lati elegante anche di un certo aspetto non sia un pacciugo quindi adesso iniziamo a dare una quantità omogenea che importantissimo di silicone nell'angolo che verrà sigillato ecco adesso il trucco sta molti usano solo acqua ma il trucco migliore quello di usare acqua e sapone anzi un'acqua con un pezzo di sapone sapone normalissimo affogato nell'acqua e passare il dito sul sapone creando una patina viscida però non troppo esagerata perché sennò sporcherebbe le superfici da sigillare e quindi se ne elimina un pochino quando è troppa e adesso guardate come si agisce il silicone non si attacca al dito inoltre il silicone l'acqua col sapone bagna i lati della siliconatura questo è un eccesso di silicone si può togliere senza che sia rimasto attaccato al dito altro sapone e con calma si procede ai bordi il silicone non sbava perché e comunque se sbava si può levare perché si bagna la lamiera stessa di acqua e sapone e ci si può lavorare anche bene riuscire a fare delle ottime sigillature precise adesso lo rifiniamo dall'altra parte l'eccesso di silicone viene tolto non si attacca al dito è comodissimo altro sapone e con calma si riesce a fare un ottimo lavoro ora vedete che dai lati e le lamiere sono sporche di sapone quando poi si indurisce basta una sciacquata adesso stiamo dando una rifinita per completare l'opera dando una sciacquata si vede dal lavoro finito che risulterà preciso comunque già adesso possiamo vedere come distribuito anche dall'alto specialmente sui vetri un lavoro del genere da un buon risultato anche estetico quindi a questo punto possiamo salutarvi dalla ragazzi iscrivetevi al canale